Real Madrid, campioni d'Europa. Il buono Carlo Ancerotti vince dunque la sua quarta Champions League. I campioni di questa Champions League, ripeto, sono proprio i Madrid, il Real e il Blanco, sono campioni d'Europa. Per la quattordicesima volta, un risultato ragguardevole grazie a Junior, che nel 59esimo minuto del secondo tempo la butta dentro, fa un ottimo gol. E il trionfo del buono Carlo Ancerotti è un trionfo elevato, un pazzesco. Per la quarta Champions da allenatore, dopo quelle con Milan, con il Merengues, nessun tecnico è riuscito a fare tutto questo. Ancerotti si impone con una capacità senza falsa ritorica pazzesca, una capacità elevata, ma soprattutto che piace, che convince, che lascia un segno equilibrato, potente e flessibile in un ben impaginato mondo del caccio. Un Ancerotti raggiante ottiene una vittoria straordinaria, una vittoria 100 alla Champions League, che dunque il Real è il Campione d'Europa. Bene, complimenti a uno con il Real Madrid, complimenti a Carlo Ancerotti, il video della mia cuore. Grazie a tutti e a tutti.